In questa zona è un periodo, insomma, l'hanno fatte tutte, insomma, ci manca poco, a chi le galline, a chi le attrezze agricole, chi in casa, a chi le gomme della macchina, di tutto di più, insomma. Ancora un colpo in Villa Campolucci, frazione alle porte di Arezzo. I ladri sono riusciti ad aprire la cassaforte ed hanno prelevato i gioielli che si trovavano all'interno. Si sono poi dati alla fuga con un bottino di circa 10.000 euro. Nell'ultimo periodo, qui, insomma, c'è stato un viavai non indifferente. Il colpo è stato messo a segno nella tarda serata di sabato, tra le 18.30 e le 19.30, nelle mire dei malviventi, l'abitazione della fondatrice di una nota azienda, Ora Faretina. I ladri hanno atteso il momento propizio per entrare in azione, quando i proprietari erano usciti di casa. I malviventi, prima di tutto, avrebbero reso innocui cani, forse con uno spray. Hanno poi forzato il finestrone ed una volta entrati, si sono diretti verso la cassaforte. L'hanno aperta, probabilmente con un flessibile, e svuotata dai preziosi, dal valore di circa 10.000 euro. A fare la mara scoperta, i proprietari, una volta rientrati in casa. Sull'episodio, indaga la polizia, gli agenti della scientifica hanno effettuato i rilievi. Si tratta dell'ennesimo colpo messo a segno nella zona di Campoluci, da mesi presa di mira, con furti in abitazione, ma anche in annessi agricoli. In casa non sei padrona di stare in casa tua, libera. È un po' terrore, insomma. Cosa chiedete? Si chiede un po' di vigilante. Cos'altro si può chiedere? Cos'altro si può chiedere?